Salve ragazzi, sono felice di essere qui oggi con voi. A dire la verità avrei voluto essere con voi fisicamente e avervi tutti di fronte per potervi parlare direttamente e per ascoltarvi, perché è bello anche ascoltare i ragazzi. Sono qui per raccontarvi la mia storia, che è una storia molto bella, sembra quasi una fiaba. La mia passione per la moda nasce perché mia madre negli anni 60 aveva una sartoria sulla costa adriatica. La costa adriatica allora aveva un fascino incredibile perché c'era Federico Fellini che raccontava il nostro territorio in un modo incredibile, fantastico, surreale ma molto speciale. E come succede sempre, le mamme lavorano, i bambini piccoli vengono affidati alle zie. Io facevo di tutto perché mia zia mi portasse ogni tanto in sartoria. E poi mi piaceva vedere mia madre, mia madre che prendeva questi tessuti, che li drappeggiava sul corpo di queste donne e io da bambina vedevo come una magia corpi di donne belle, ma diciamo donne che incontriamo quotidianamente. Quei drappeggi di mia madre mi sembrava che diventassero delle principesse. Poi succede che mia madre decide di chiudere questa sartoria, però anche lei con la passione comunque che gli era un po' rimasta, apre una merceria, sapete cos'è una merceria? È un piccolo negozio che tiene poche cose nella casa dove viviamo, nella periferia di Cattolica. Riesco, con determinazione perché mi appartiene, a convincere mia madre che da una piccola merceria doveva diventare un negozio di abbigliamento. Lei mi diceva, ma scusa Alberta, chi viene a comprare in periferia dei vestiti già pronti che ancora non se ne parla neanche tanto, ma io ero molto attenta e avevo percepito che il pret-à-porter stava nascendo in Italia ed era una voce molto importante. E io nel frattempo avevo smesso di andare a scuola e questo sinceramente è la cosa che mi è mancata di più. Decido di cominciare a fare qualche capo per il mio negozio, poche cose, ma qualche vestito, qualche gonna particolare, qualche bella camicia e comincio a venderli nel mio negozio, insieme agli altri marchi importanti naturalmente. Un rappresentante che era venuto per vendermi un marchio importante, dice, ma che carine queste cose, che ditta è? Sono le mie e lui mi disse, le vuoi vendere? La famosa accogli l'attimo, ho detto sì. Per cui di lì a poco tempo chiesi a mio fratello che ancora studiava se voleva venire a dirigere lui il negozio, perché era importante, perché comunque il negozio era, come dire, un finanziamento per l'altro progetto, il fratello dirisse il negozio e io cominciai a fare la mia collezione. Per cui capisco anche che io, giovanissima, in questo capannone che mi ero presa, perché mi ero trasferita in un capannone di 400 metri quadri, con dalle 6 alle 8 persone, non ricordo esattamente, che erano un po' quelle che mi aiutavano a fare questi capi per la boutique, prima di diventare un'azienda di qualità ci avrei messo troppo tempo e poi chissà se mai ci fossi riuscita, perché ero giovane, non avevo tanti soldi, vivevo in provincia, però avevo una bella determinazione. Per cui comincio a pensare che se la mia piccola azienda poteva produrre e distribuire anche per un nome più importante e più conosciuto del mio, sarei riuscita a far crescere l'azienda. Mi sono guardata attorno e allora c'era una collezione che si chiamava Touche ed era di grande successo ed era disegnata da Enrico Coveri. Incontrai a Enrico, gli raccontai delle cose, devo averle raccontate molto bene perché mi disse di sì. Per cui lanciai Enrico Coveri, parallelamente continuavo a fare la mia collezione, potevo ampliare la produzione interna, fare una qualità migliore e nel giro di due anni Enrico ebbe un grande successo. Nel frattempo io crescevo e la mia azienda cresceva. La mia azienda ha lanciato anche Franco Moschino, poi a quel punto io ho chiamato mio fratello, mi è dispiaciuto, abbiamo venduto il negozio perché a me piaceva la parte creativa, avevo bisogno anche di una parte che seguisse un po' più manageriale, più amministrativa. È arrivato mio fratello e abbiamo lanciato anche Franco Moschino. E molti giornalisti dicevano, ma come, tu sei una designer e dai spazio agli altri designer? E io dicevo, certo, ognuno di noi racconta una storia, ognuno di noi ha il proprio stile. Perché devo essere gelosa? Dobbiamo cercare tutti di fare il meglio. Siamo tutti italiani e il Made in Italy è oggi sicuramente il più importante nel settore della moda. Ma già allora, anzi, forse siamo stati i propri primi. Nell'81 faccio la mia prima sfilata, coraggiosa o forse incosciente, non so dirvi come. Perché in quel momento la moda parlava un linguaggio completamente diverso dal mio stile. Perché allora le donne, tra virgolette, si travestivano quasi da uomo perché entravano nel mondo del lavoro, nei consigli di amministrazione, dovevano avere questo appeal più severo. Io no. Io facevo sottoveste di saten, abiti di chiffon, magari li facevo mettere quegli stivali, poi dei piccoli cardigan. Mi piaceva una donna femminile, anche con un pizzico di romanticismo, perché per me il romanticismo non è un segno di debolezza, ma è un segno di forza. Forse proprio per questo sono riuscita con forza, andando avanti con quello stile, non tradendo il mio sentire verso la donna, il mio rispetto nella donna, ad avere un buon successo. Oggi AF è una bellissima azienda. È un'azienda che produce Alberta Ferretti, Moschino, Filosofi e poi abbiamo anche gli accessori come Pollini. E abbiamo anche 2.000 dipendenti, dipendenti diretti, che rappresentano l'azienda in tutte le sue sfaccettature, dalla prototipia, alla qualità, alla confezione, all'amministrazione, alla distribuzione. La moda può sembrare un lavoro divertente, lo è se lo ami, perché ti impegni a 360 gradi. Io ad esempio non stacco mai, qualunque cosa vedo poi stranamente la riporto al mio lavoro, perché è il lavoro che amo, è la mia passione. E ancora oggi continuo a far moda e vesto donne importanti e ho situazioni molto interessanti e credo di parlare ancora un linguaggio contemporaneo. Sono curiosa, mi piace ascoltare, dico tutti i giorni ho una nuova lezione di vita. È un lavoro veramente interessante e ancora oggi penso di farlo con la passione di una volta, forse anche di più. E sono attenta al mondo che cambia. guardo le donne, voglio mantenere il mio stile e credo che oggi più che mai paghi perché c'è di nuovo voglia di qualità, di capi che entrano in un guardaroba, che non vengono buttati via dopo sei mesi, che questo è sbagliato, inquinano e non è giusto. E poi è anche giusto che una donna scelga i vestiti che lei sente, che le stiano bene, che la facciano sentire a suo agio, che si vesta per se stessa e non per interessare agli altri. Questo è molto importante. Diceva Coco Chanel, una donna entrando in una stanza viene notata per quello che lei è, dopo ti accorgi che è vestito e indossa. Questa è la vera donna, avere identità e personalità. Ecco, io credo ancora oggi di lavorare con rispetto della mia cliente, una cliente che si evolve, le figlie crescono e vogliono diventare clienti e questo è molto bello. Con rispetto della fisicità, dello stile, dell'eleganza di avere un'identità propria, di capi che entrano in un guardaroba, che ci restano e questo a me piace e cerco di continuare a lavorare in questa direzione. Poi trovo anche che siamo fortunati, siamo in Italia, il made in Italy, inutile dire, è il numero uno al mondo. Poi è vero che certi marchi purtroppo oggi sono di proprietà dei francesi, ma sono italiani di nome. Noi abbiamo una filiera straordinaria, come tessutai che vi parlavo prima, come mano d'opera di artigiani che hanno un modo di finire i capi, che sembrano tutti di alta moda. Per cui è un mondo affascinante e sono certa che vi riempirà la vita di gioia. Ragazzi, spero di rincontrarvi presto.